Giancarlo Carnella, direttore generale dell'Ozium e Palacanestro Palermo R Motors Toyota. Una nuova avventura che riparte dalle giovani? Sì, è stata una scelta che abbiamo ponderato quest'estate perché sia per motivi legati al nostro nuovo budget sia per una nuova sfida che abbiamo voluto intraprendere, abbiamo deciso di rinnovare sensibilmente il parco delle giocatrici puntando prevalentemente sul nostro ormai fiorente settore giovanile che avendoci dato già le buone soddisfazioni nei campionati giovanili ci dà anche la garanzia per poter affrontare un campionato a seniores puntando ovviamente a buoni risultati ma soprattutto alla maturazione di questi giovani che garantiscono il nostro futuro. In questi cinque anni sicuramente diciamo che la pallacanestro Ozium Palermo ha rappresentato l'espressione massima della pallacanestro a Palermo sia nel settore femminile che in quello maschile che tranne una piccola parentesi di una società che ha fatto una bid'eccellenza maschile non ha espresso purtroppo altro. Quindi diciamo noi possiamo vantarci di avere appunto rappresentato la pallacanestro a Palermo avere portato entusiasmo su questo sport, avere portato anche diciamo dei bei risultati e abbiamo portato in giro appunto il nome di Palermo con grande soddisfazione e in questi ultimi anni siamo stati abbinati oltretutto appunto al marchio remotors Toyota e quindi crediamo di aver fatto fare bella figura anche a chi ha creduto in noi. Adesso abbiamo deciso appunto di iniziare un nuovo ciclo e questo nuovo ciclo appunto ha previsto un ringiovinimento della squadra nel tentativo e nella speranza di avere buoni risultati immediati ma soprattutto nel prossimo futuro.